video ripreso in modalità automatica full hd con samsung galaxy 4 zoom proviamo ad utilizzare lo zoom 10x utilizziamo la ghiera vediamo com'è la nitidezza potete notare che si vede veramente benissimo 10x quindi uno zoom ottico davvero notevole ora ritorniamo l'endezza normale troviamo un pan rapido vediamo ora un cambio di luce proviamo ad avvicinarci vediamo che la messa a fuoco è molto rapida ora ripetiamo la stessa operazione avvicinandoci camminando ok siamo tornati a 1x mettiamoci pure contro sole vediamo il livello della messa a fuoco ok tappando viene messa a fuoco immediatamente direi assolutamente niente male a fuoco immediatamente Grazie.